Nonostante dal mio canale sia sparita la serie incompleta, per carità, ma tant'è, di Chang Bang, per ogni dettaglio vi rimando a questo video, The Lady torna prepotente sui vostri PC. Tablet, monitor, smartphone, cazzo, e ovunque! Il quarto episodio, non il primo, come lo scorso, cioè il terzo, cioè mi va in pappa il cervello. Il quarto episodio si apre con una profonda riflessione di alcuni Black Angels. Ci sono delle persone nate per comandare, e altre che possono solo eseguire. Infatti lui può solo eseguire, ma non accetta di essere comandato. E quindi? È una frase troppo complessa da spiegare. No, non lo è affatto, è una frase anche piuttosto logica, e non so se preoccuparmi per il tipo che non l'ha capita, o per l'altro tipo che crede sia una cosa complessa, dimostrando quindi non averla capita neppure lui. Solo chi vale di più, deve essere il primo, e io dimostrerò sul campo. Chi lo è? Dai, lascia stare. Perdonami, amico, io non sono accomodante, e tantomeno secondo a nessuno. Sei tutti noi. Ehi, non puoi buttarti da questo dirupo! Mi spiace, ma voglio buttarmi. Scendi al razzo, amico mio. Ma che cazzo è? Siamo addirittura prima della sigla, ed eccola, infatti. Madonna santissima, lo schifo! La puntata si apre con la nuova cattiva segretaria della The Lady. Il telefono squilla, ed è il papà. Sono in pensiero, dove sei? Sto lavorando, non ho mica più dieci anni. Sei sempre la nostra piccola, vieni a trovarci. Ok. E buona, cioè, queste scene così incisive mi mandano fuori di testa. Io ho visto Inception, Memento e altri film molto, molto intricati, ma ogni volta The Lady mi lascia abbasito, mi lascia perplesso, mi scuote l'anima. Ma è Martinique, questa me la ricordo, perché il livello di recitazione era dannatamente sopra la media, e poi veniva costantemente chiamata da Lona. Hello, Lona, come va? Appunto, oh, precisa come la diarrea dopo aver mangiato messicano. Volevo controllare il tuo grado di fibrillazione. Fibrillazione? Che cacchio aspetti, chiama l'ambulanza! In fondo, qualcuno ha detto che il lavoro nobilita. Io penso che lavorare sia un virus da devellare. Io posso solo guardare. Questa è la gente di cui il mondo ha bisogno, tutta racchiusa in The Lady, fra l'altro. So valorizzare la mia arte. Si può dire che ne hai da vendere, allora. Adoro essere bipolare. Cazzarola, è in fibrillazione, è bipolare e nessuno ha ancora sfondato la porta in suo soccorso. Uber sta per perdere la pazienza, oltre che i sensi, quando si accorge che la porta è aperta. Ma basta stare dietro a questa trama così complessa, perché il popolo esige una ripresa ad Minchiam col drone. E un nuovo dialogo tra Mordorman e il suo agente. Il tipo qui deve portare la sua schiera di fan a pranzo in un ristorante e chiede aiuto al proprio agente su quale posto indirizzarsi. Il compare gli organizza il tutto e poi gli dà un utile consiglio. E lecca pure in giro, sai cosa intendo. Dio santo la risata, la risata. Ma Lona ha un'importante telefonata da fare. Mi annulli l'intervento della prossima settimana. Vado a Parigi. Ma Lona, l'università era così felice di ospitarla. L'università? E che ci dovrebbe fare Lona all'università? Ascoltare una sua conferenza a titolo gratuito? Aveva raccolto un'abnormità di consensi. Cosa? E di che dovrebbe parlare Lona? Di come non mandare avanti un'azienda? Lei attira curiosità, interesse. Come gli animali allo zoo allevati in cattività. Il livello dell'ateneo per il quale lavoro si innalza continuamente. Certo, l'ha capito. E vogliamo i migliori esperti nel campo della comunicazione. Lona, esperta di comunicazione. Ma se dopo tre stagioni non si sa ancora di preciso di che cosa si occupi la sua azienda. Con quella maglia lì, poi, esperta di pelo. Ma che è? Drone Time e Mordorman. Sono tutti quanti nel fantasticerrimo locale per un pranzo a base di tè e pasticcini. Vabbè, sorvoliamo. Mordorman chiacchiera con le tipe per sapere di che cosa si occupano. Seguiamo il trend di chi diventa famoso. Insomma, siamo alla moda. E la madonna. Ma oltre ad una considerazione totalmente fuori luogo e senza alcun nesso logico. Siete due rivelazioni incensurate. Scusate. Si intromette la barista. Io invece so cantare e ballare. Ciao. Sono qui oggi solo per sostituire un'amica. Pensa che culo che abbiamo, eh. Vuoi sentire qualcosa? No, grazie, siamo a posto con... Sto casando. Tu non sai quello che sto soffrendo. Eccola. Ma porca. Tralasciando la tizia che si tocca in maniera incontrollabile. Ma l'uomo lì dietro. Chi sarebbe? E soprattutto, come cavolo è vestito? Sembra Enrico Ruggeri dopo essersi iscritto a una gang di motociclisti. Mi fai dura. Serai che ti llevo alla luna. Madonna santissima, fermatela, vi prego, basta! Credevate di aver toccato il fondo? Seriamente? Ma allora non avete capito un cazzo. Questo qua è The Lady. Qua si scava nelle profondità più nascoste del genere umano. Qui si trovano i buchi neri della follia. Quelli da dove neanche l'amor proprio riesce ad uscire. Sono io la vera star dello show business. Vi trasformo come volete. Cambio i quari con le tessere del passato. Cambio tutto. Dottore M! Perché si è alzato anche lui? Che cacchio c'entra? Cos'è sta roba? Cos'è? E tutto finisce con un selfie. Come mettere una ciliegina gusto cianuro su una torta di merda. Drone time ed ecco la segretaria cattiva Elona che finalmente si incontrano. Finalmente ci vediamo. L'invenzione del cellulare ha cambiato le nostre abitudini. Questo oggetto mi regala molta libertà. E che cazzo c'entra con la discussione? Si cambia scena e... Ma tu in generale come ti comporti sul lavoro? Io non sono preparato. Lo so che sta per arrivare una frase della minchia ma... Non ce la faccio. Dai non ce la faccio. E vabbè dai tolto il dente, tolto il dolore. Non rispondo alle provocazioni perché si crea una catena che difficilmente si può rompere. Voglio cercare di avere un futuro pacifico. E che regole hai per trovare nuovi lavori? La prima regola è far parlare gli altri. Tu sai che cosa hai da offrire ma non sai cosa loro vogliono. Secondo me l'impegno non serve. I soliti raccomandati. Esiste solo quel metodo. Ma se hai scoperto il metodo... Allora perché non ti fai raccomandare anche tu? Beh fosse facile. Appunto. Ogni cosa è difficile. Ecco perché se si arriva in ogni caso vale. Wow. Mi ha lasciato... Spiazzato. Cioè il discorso fila. Ha senso. Lasciando da parte il fatto di condividere o meno il pensiero. Ma finalmente è un discorso che parte dal punto A e arriva al punto B senza nel mentre drogarsi di roba tagliata male. È stato incredibile. Ma non c'è tempo per distrarsi perché Lona e la segretaria cattiva stanno visionando un video di Giselle. Bel viso. Bel corpo. Voglio lei per la prossima campagna del profumo. Facciamo una pausa. Devo rilassarmi un attimo. Cioè queste stanno lavorando? Guardare un filmato sul Mac e annuire è un lavoro? Cioè ma dove devo firmare? E cambiamo location per vedere la sorella della cattivona avvicinarsi nuovamente al tipo vicino a Lona che sì, lo confermo per chi ancora non lo sapesse, è il vero fidanzato di Lori del Santo e non è nemmeno capace di stendere l'asciugamano in spiaggia, porca la miseria. Comunque niente, Lona lo chiama per avvisarlo dell'arrivo imminente di un pacco misterioso e poi via. Si torna sui droni e dall'infoiata. Aspetta un attimo, ma quella è la tipa che te la farà pagare, quella che girava nuda per i paesi e che si è truccata da zombie sotto la doccia per nessun motivo, ma che cacchio c'entra adesso? Non ci voglio pensare, no, non ce la posso fare, anche perché il discorso che vi permetto di saltare a pie pari parla di un ex fidanzato dell'infoiata che pretendeva di risparmiare un posto sulla prenotazione di un albergo a Londra, ed è proprio per questo motivo che ora è un ex fidanzato. E tutta la storia l'ha raccontata rimanendo in questa posizione, con questo vestito, Dio santo il fastidio. Anche perché poi la scena è finita e io mi sono ciucciato sto discorso inutilmente. E dura un casino, lunghissima questa scena, porca miseria. Bene. Fermi tutti, la sorella della cattivona si avvicina finalmente al suo obiettivo, attenzione, attenzione la trama, signori. Ehi. Ehi. Senti, ti andrebbe di venire al cinema con me stasera? E ci voleva tanto, minchia, lo hai spiato per tre mesi e questo è l'approccio incredibile, magari studiato pure a tavolino. Non voglio più ragionare con The Lady. In ogni caso, niente angosce, pago io. Questo potrebbe fare la differenza. Che uomo, signori. Che classe. Comunque, la tipa li lascia un biglietto con il suo numero e si risentiranno più tardi. Torniamo dal tizio che farebbe scorrere fiumi di champagne, ma con un'altra voce perché la segretaria cattiva ha deciso di incontrarlo per parlare un po' della The Lady. Il tipo qui era stato allontanato proprio da Lona dopo che lui le aveva rubato la borsetta in discoteca e per questo motivo... Devo trovare le prove che le toglieranno i sospetti su di me. E giustamente, dopo che uno ti dice così, l'unica cosa che puoi dire è... Sei eclettico. Ma che cazzo di frase è? Ma che cosa vuol dire? Ma perché se ne devono sempre uscire con sti termini della minchia? Io non ce la faccio più! Un secondo di schermo nero, solo un secondo. Riposo un attimo gli occhi, la testa, tutto. Dai che è quasi finita la puntata, via. La tipa infoiata è andata a trovare Kira, che le mostra il favoloso lavoro coreografico che hanno addobbato in questo elegantissimo locale, dove delle ragazze ballano all'interno di gabbie in metallo, molto fine di classe, devo dire. E vorrei ricordarvi che la The Lady possiede questo locale. E visto che lei... Lo leggo perché mi sono fatto una piccola lista. Tratta di moda, di profumi, di film, di spot, di vestiario, di viaggi, eccetera. Io non ho la minima idea, allo stato attuale della serie, terza stagione, quarta puntata, di che cacchio dovrebbe occuparsi la sua azienda. Ma attenzione, perché la sorella della cattivona sta uscendo col suo obiettivo dal cinema, come concordato qualche ora prima. Dimmi, sei fidanzato? Fai troppe domande. Non essere timido. No, non lo sono. Ah, allora mi fidanzo io con te. Sento che c'è feeling tra di noi. Ah, si fa così, non lo sapevo. Scusa capo, scusa. Io ora ti saluto, ci vediamo venerdì alle 13. Appuntamento all'hotello davanti. Beh, perlomeno si sta avvicinando a lui, lo sta costringendo cacchio. Le due voci fuori campo intanto continuano le riflessioni su Kira, sul locale, sulla vita, il tutto mentre lei dondola, 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 che due coglioni! E la puntata finisce così, mentre lei si strugge sull'edera dell'altalena e il latino americano irrompe di prepotenza. Questa puntata è stata allucinante. Io non so dove andrà a parare la terza stagione, 99 su 100 da nessuna cazzo di parte, però perlomeno le cose sono collegate. Male, ma sono collegate. Ha, 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 ha!